Nella serata di martedì 26 settembre, con volo proveniente da Madrid, è giunto all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, Paez Nino Giorgio Rodrigo, 44enne di origini colombiane. L'uomo, ricercato dal 19 giugno del 2018, era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della locale DDA per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Resosi irreperibile al momento dell'esecuzione del provvedimento cautelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva richiesto e ottenuto un mandato di arresto europeo. Paez era emerso nell'ambito di un'attività di indagine denominata AMPA, condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, all'esito della quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Capitolino aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 58 persone, eseguita dai militari del Comando Provinciale di Roma nel mese di giugno 2018. L'indagine aveva permesso di evidenziare l'esistenza di un'associazione per delinquere, capeggiata dai fratelli Franco e Roberto Gambacurta, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al controllo occulto di attività imprenditoriali, nonché ai delitti contro la persona e il patrimonio, reati e aggravati dal metodo mafioso. I Gambacurta, che avvalendosi di una fitta rete di spacciatori distribuivano al dettaglio ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, in particolare nel quartiere di Monte Spaccato, a loro volta ricevevano lo stupefacente da un sodalizio capeggiato da due fratelli colombiani, Paez Nino Giorgio Rodrigo, odierno arrestato, e Paez Nino Pablo Andres, attualmente latitante, i quali avevano organizzato l'importazione in Italia tramite la Spagna e l'Olanda, attraverso il trasporto all'interno di camion, navi da crociera e navi da trasporto commerciale, di diverse partite di cocaina. In particolare, dalle indagini era stato documentato che fratelli Paez Nino avevano trasferito 50 kg di cocaina a Napoli, nascosta all'interno di un camion con la collaborazione del clan camorristico operante a Torre Annunziata e di un gruppo di albanesi, e consegnato in diverse occasioni a un esponente riconducibile gamba curta, quantità pari a 2-3 kg di cocaina all'interno del porto di Savona e del porto di Civitavecchia, avvalendosi del supporto di alcuni collaboratori presenti a bordo di navi da crociera e commerciali. Le indagini, coordinate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e condotte dai carabinieri, in collaborazione con l'ufficio antidroga UCO Drogas della Guardia Civil Spagnola, hanno posto fine alla latitanza dell'uomo, il quale, a seguito di un controllo di polizia, è stato riconosciuto e arrestato presso l'aeroporto di Madrid.